Il secondo anno che il più grande policlinico universitario del Mezzogiorno d'Italia apre le porte alla cittadinanza. Il secondo anno quindi che tutti i professori di medicina della Federico II mettono a disposizione la propria professionalità, le proprie competenze, le proprie capacità per dare una serie di indicazioni su quelli che sono i corretti stili di vita, le corrette abitudini alimentari, ma anche la prevenzione. La prevenzione è uno dei fattori fondamentali per migliorare la qualità e la quantità di vita dei nostri cittadini e quindi una grande opportunità per i napoletani e una grande opportunità per la scuola di medicina e chirurgia della Federico II e per l'azienda policlinico Federico II di aprire le porte alla cittadinanza.